E' andata a Porta Santo Spirito la prova generale della giostra del Saracino dedicata a Dettore, Bubi, Tattanelli, storico regista della manifestazione. 2-5 di Elia Pineschi e il 4 di Elia Taverni portano la vittoria al quartiere della Colombina, ma solo, soltanto dopo gli spareggi. Era partita Porta Crucifera con Niccolò Paffetti che è andato dritto sul massimo punteggio. Stesso di Casi per Porta Santo Spirito con Elia Pineschi, Saverio Montini per Porta Sant'Andrea si ferma sul 4, conclude la prima serie di carriere il 5 di Francesco Rossi per Porta del Foro. Si riparte Andrea Bennati, centra un 4 per Porta Crucifera, 4 anche per Elia Taverni di Porta Santo Spirito. Matteo Bruni invece centra il 5 per Porta Sant'Andrea, chiude le seconde carriere Porta del Foro con il 4 di Roberto Gabelli. I quartieri sono tutti a quota 9 e quindi si va agli spareggi. Porta Crucifera manda sulla lizza Niccolò Paffetti che si ferma sul 2, Porta Santo Spirito invece schiera Elia Pineschi che centra un 5. Saverio Montini per Porta Sant'Andrea e Francesco Rossi per Porta del Foro colpiscono entrambi un 4, ma ovviamente non basta. La prova generale va a Porta Santo Spirito. Di 4 guardi! Di 4 guardi! Chi dice il 4 esolisho di venire? Pi via di venire il 3 è il percorso di Nachan графico. Chi finisce qualche corpo fa solo di filo? Il 4 guardi è il 4 derogato di faccio! Grazie.